ciao benvenuto allora ti spiego il cosa ne penso ok del trading di breve termine fatto sulle pin bar è una cosa che su internet si trova di frequente ok è un tipo di trading che io personalmente non sono mai riuscito a mettere in pratica perché perché è troppo riduttivo ed è troppo banale ok dire faccio trading sulle pin bar la prima cosa che ho imparato la prima cosa importante veramente importante che ho imparato è che per operare con efficacia è necessario studiare il contesto il contesto di mercato quindi studiare il contesto su time frame alti ok come del resto insegnava l'illustre Charles do ok il quale diceva che tutto quello che avviene su time frame piccoli time frame intraday e spazzatura tutto quello che si verifica su time frame ampi elevati annuale trimestrale mensile settimanale invece erano informazioni importanti sul quale era possibile fare una pianificazione in più aggiungo che fare trading di breve termine è possibile ma è molto più complesso e richiede molta più esperienza di quanto non ne serva con il trading di lungo periodo il trading di lungo periodo consente di lavorare più serenamente e avere profitti decisamente maggiori il trading di breve termine richiede tanto lavoro e i profitti rischiano di essere troppo scarsi per la fatica che si fa ok quindi innanzitutto fare trading di breve termine sulle pin bar e basta ecco già è una definizione molto banale di un'attività di trading completa ok quindi non si può fare trading da una pin bar semplice ma bisogna imparare a studiare un contesto generale ti faccio qualche esempio adesso per essere per esempio un contesto favorevole per trovare opportunità è la prima barra e trend daily consolidata adesso ti faccio questa spi ti faccio ti spiego questa cosa è un contesto molto semplice che noi dobbiamo aspettare sul daily per poter trovare le opportunità ok che poi e possiamo trovare anche opportunità basate sulle false rotture sui determinati pattern che producono false rotture e pin bar ma bisogna aspettare quel tipo di condizione che è una condizione estremamente favorevole una condizione che configura il più delle volte un un'esplosione di liquidità oltre i margini giornalieri ok e quindi in quel caso ha un senso ma prendere le pin bar singolarmente così magari su un time frame in tra dei come l'h4 o l'h1 è una cosa troppo banale ok Larry Williams che è un grandissimo trader contemporaneo spiega che ci sono due modi per fare il profitto nel mercato o da o si fa profitto con piccole posizioni lavorando e guadagnando su ampie variazioni di mercato e questa è la via che consente di lavorare e di fare profitto nel tempo perché consente di avere spese basse e profitti elevati oppure lavorare con posizioni grandi e variazioni di mercato piccole e spiega anche lui che questa invece la via una via difficile una via complessa una via che porta a gestire spese molto elevate e guadagni molto piccoli quindi io ti consiglio prima di avviarti a fare trading preso dall'entusiasmo le cose che ho trovato su internet ti invito a approfondire l'argomento c'è un libro bellissimo di Larry Williams i segreti del trading di breve termine che prima di qualunque attività di trading ti consiglio di leggere ok e poi anche un libro bellissimo di Gioros che si chiama day trading dove lui spiega il trading intraday pratica ma spiega anche tante cose molto importanti che servono a ogni trader a ogni imprenditore che intende sviluppare questa attività ci sono tante informazioni in questi libri che consentono a ogni trader imprenditore di sviluppare questa attività correttamente con i presupposti giusti ok ti faccio qualche esempio allora questi sono i miei time frame intraday ok h4 e h1 due time frame che io uso per lavorare perché ogni tanto il trading intraday lo inserisco nella mia attività ma solo quando determinati contesti si manifestano allora vediamo l'esempio del dollaro dollaro canadese gli ultimi tempi dove ho chiaramente lavorato sul dollaro dollaro canadese chiaramente ho studiato tutto il contesto generale e ho aspettato un evento in particolare la prima barra di trend consolidata oltre il confine di questa congestione ok che infatti ha prodotto un'altra barra di trend un'altra ancora poi il prezzo ha collassato il prezzo ha prodotto una nuova barra di trend consolidata oltre il gruppo di barre e nuovamente il prezzo ha configurato una barra di trend vedi per sviluppare correttamente questa attività servono tante informazioni che non sono difficili ma servono tutte queste informazioni per poter operare in modo completo e poter operare nei contesti migliori nei momenti di mercato migliori dove sai che solitamente il mercato si muove in modo prevedibile ok e si muove in modo pulito un'altra cosa che Larry Williams insegna è imparare a fare trading studiando i comportamenti prevedibili del mercato praticamente i soliti movimenti del mercato non non le occasioni uniche oppure i movimenti unici tipo aspetto che la Grecia fallisca per no ecco quello è proprio un tipo di contesto che noi dobbiamo evitare che noi solitamente evitiamo perché sappiamo che può nascondere le incognite e allora noi dobbiamo imparare a lavorare voi dovete imparare a lavorare in contesti di mercato prevedibili il mercato si è sempre mosso in un certo modo e continuerà a muoversi in un certo modo basta studiare tutte queste piccole regole che io chiamo regole naturali del mercato che si sono sempre verificate e si continueranno a verificare ok attraverso questi tutorial spero di avere l'occasione di spiegarti tutte queste cose ok affinché tu possa avere se non altro una conoscenza più approfondita e fare le tue scelte in modo più consapevole l'obiettivo di questi tutorial non è darti istruzioni operative ma è darti una cultura generale maggiore per consentirti di capire quando stai facendo degli errori ok tutto questo deve servirti a avere una maggiore consapevolezza a evitare gli errori e a cominciare a strutturare questa attività su basi solide ok bene buon lavoro se hai domande puoi anche scrivermi ciao a presto